Bene amici, oggi è l'8 di gennaio e ieri il postino ha suonato due volte, perché sì, anche da me il postino suona quasi sempre due volte sono stati due pacchi, uno è lo scotch tradice la provenienza, ma vediamo cosa contiene continuerà sicuramente un wearable, visto che Garmin fa fondamentalmente quelli me lo avete chiesto in tanti, io sono un appassionato e quindi eccolo qua, il VivoSmart HR il VivoSmart è uno dei wearable che mi era piaciuto di più per le notifiche, per anche la durata della batteria vediamo se la versione con sensore di battiti funziona alla stessa maniera oh, finalmente questa scritta mi fa godere come un riccio, non incassare oneri doganali e finalmente qualcuno che mi spedisce i pacchi con gli oneri doganali a suo carico dopo aver speso in gennaio, tra gennaio e dicembre, boh non so, almeno 200 euro di dazzi mazzi allora, togliamo la scatola di HL, scritta rigorosamente in Chinese apriamo questa busta del desiderio e vediamo cosa troviamo dentro allora, OnePlus X, ma non è il OnePlus X che ho già provato per HDblog? bensì, 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 andiamo a scoprirlo, andiamo a scoprirlo perché c'è una sorpresa adoro gli unboxing, adoro tirare via le plastichine dai telefoni nuovi, è proprio una bella sensazione ve l'avevo già detto che la scatola, nella recensione, che la scatola del OnePlus X era una delle più difficili da aprire perché è tutta un po' gommatina, il che al tatto è bellissimo sembra quasi proprio di accarezzare la guancia di un bambino piccolo quando la si tocca in realtà, quando la si apre, eccolo qua, si scopre il OnePlus X bianco con scocca champagne dorata sempre bello da tenere in mano il OnePlus X che ne dite, magari lo mettiamo nella nostra cantinetta? bah, fatemi sapere nei commenti alla prossima recensione e al prossimo unboxing, ciao!